e bentornati ragazzi e tutte le avventure come sempre iniziano con un sentiero che va giù di qua ma anche uno che va di qua e io mi sento voglio andare qua adesso voglio fare un giro tra questi olivi lasciati un po in incuria speriamo di avere più fortuna oggi delle ultime uscite che sono andate veramente male tragicamente ma speriamo andiamo a vedere l'olivetto è sempre molto bello allora olivettino olivettino abbiamo un target qui vediamo di cosa si tratta scaviamolo subito ciao 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 ragazzi un'altra moneta ma nella solita piana quattro monete in una piana molto bene tutti i vittorioni eh per l'amore di dio però solita piana sul bordo lo segnava molto profondo e infatti eccola qua altro centesimino sicuramente sì sì altro centesimo e cinque oh cinque monete in una piana non è male eh a scendere giù di qua c'è da divertirsi peccato che devo andare al lavoro di corsa adesso peccato peccato insomma la situazione è andata così abbiamo trovato cinque piume e cinque morette tutte sulla solita piana due centesimini e poi le altre questi qua sono due vittorio e manuel sicuro ecco due centesimi del 1900 e qui sono sicuro due vittorio e manuel due vittorini cinque centesimi eh dai non è andata neanche troppo male per aver fatto un un'oretta scarsa bene ci tornerò sicuramente in questo livello ragazzi come dico sempre ci vediamo la prossima volta sempre se ne ho voglia ciao ciao